OST 2019, ci troviamo allo stand dei magazzini del caffè e siamo con il responsabile commerciale dell'azienda Luca Gandini. Luca bentornato. Grazie Fabio, sempre un piacere vedervi, sempre un piacere essere presenti allo soprattutto quando abbiamo delle belle novità. Quali le novità presentate qui a OST 2019? Il magazzini del caffè lavora sempre nella ricerca e sviluppo e nell'innovazione. In questa OST in particolare presentiamo la capsula compatibile in espresso compostabile che ha delle caratteristiche importanti, quali un'ottima estrazione uguale alle capsule tradizionali e quali anche una barriera all'ossigeno importante perché possiamo garantire 18 mesi di cell life. Oltre a questo abbiamo presentato anche le compostabili a modo mio, delle quali abbiamo fatto un'estrazione, Fabio, della quale andiamo veramente orgogliosi. Al quinto giorno quanto siete soddisfatti di questa fiera? Da 1 a 10 o da 10 a 100? Facciamo da 10 a 100. 95 per 100. 90, 95, vai. È stata certamente una bellissima fiera, tantissimi i visitatori, siamo al quinto giorno e stiamo attendendo i dati finali da parte dell'ente fiera. Direi che comunque per andare da un padiglione all'altro impiegavamo tutti un po' di minuti, vuoi per le distanze, vuoi anche per la tanta gente che c'era nei corridoi. Una fluenza sicuramente importante, abbiamo incontrato anche dei buyer importanti per cui, che per noi partecipiamo alle fiere per questo, grandi aziende interessate all'innovazione, alla qualità, siamo realmente soddisfatti. Bene, Luca, allora per chi si trova dall'altra parte e desidera avere maggiori informazioni in merito ai prodotti appena citati di i magazzini del caffè, qual è la casella di posta elettronica attraverso la quale potervi contattare? Benissimo, per contattarci è commerciale-magazzinidelcaffe.com Vi aspettiamo numerosi. Grazie e alla prossima fiera. Grande Fabio, grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.